La casa di moda Cilento, fondata nel 1780 a Napoli-Vilano, in collaborazione con il Museo Archeologico di Napoli, presenta una collezione di cravate flore ispirate alle opere. Eccolo il CEO della Fondazione Cilento, bellissime, anche le cravate ispirate alle opere d'arte custodite in questo museo, le leggiamo qua con una lopendina, cravatta con antica farmacia, antica spezieria bre, cravatta con mitra, con l'ampolla, quindi una serie di... tra l'altro lui si è occupato anche di Ferrovie dello Stato, anche alla Regia di Caserta, ci auguriamo di trovarle esposte in vendita anche nel Bookshop, questa è una busta inaugurata due giorni fa con questa presentazione che ho letto in particolare. Grazie. Grazie. Grazie.